Questo è il cuore che batte, il cuore delle isole Oli, siamo esattamente nel centro di Lipari, su quello che è lo splendido Corso Garibaldi, entriamo in una delle location più ambiti da tutti coloro che vogliono trascorrere una mezz'ora davvero affascinante, ma anche di più perché questo è l'Edenbar, un aperitivo o una serata a suon di musica con un ritmo pienamente lì parata perché questo è quello che le isole Oli vi sanno dare, questo è quello che Weekend Edintoni comincia a mostrare per voi. Cocktail, estate 2011, moitone. Ovviamente da bere con grande moderazione per tutti coloro che nella notte non vogliono sbandare, ricordiamo lo tempo. Certo. E' la campana, il moito è pronto. Allora, siamo nel centro di Lipari, ovviamente approdiamo con il nostro programma Weekend Edintoni all'interno di una delle location davvero della nightlife. Siamo di fronte all'Edenbar, proprio sul corso, e qui c'è la vita. E' da sempre qui la sera per l'aperitivo, per il dopo cena, fino alla una e mezza, due di notte all'Eden. Per questo Edenbar, voto nove. Cuore di Lipari, il cuore dell'Edenbar ha un nome che è quello di Fabrizio Monteleone. Qual è la pozione magica per tutto questo? Sempre il massimo impegno è sempre stare dietro la gente e proporre sempre dei prodotti nuovi. La mattina con tutte le colazioni, poi il pomeriggio si propongono, facciamo l'happy hour, l'aperitivo, la sera con tutte le bruschette, bruschetterie, tutti gli aperitivi rinforzati. Telle sere facciamo musica live con il DJ anni 70-80, cerchiamo sempre di dare vita alla movida notturna e oleana. E' un posto bellissimo, c'è una musica bellissima ed è un luogo tipico della movida di Lipari, è bellissimo davvero. Eccezionale manager della ristorazione, non soltanto in Italia ma soprattutto all'estero e in Australia. Sono molto orgoglioso sempre di tornare sulla mia isola dove amo tutti gli eoliani. Un bacio, un bacio in camera. Ed in bar, centro di Lipari, puntata speciale Oli e continuiamo come dice Weekend ed intorni a girare.